Ciao a tutti gugi, ben ritornati da vostro, andrei l'incontro su pokémon zinoversi, io risveglio Ok, ho allenato i miei pokémon un bel pochino rispetto all'ultima volta, al livello che c'evo l'ultima volta Più o meno, o meglio, insomma, un pochino li ho allenati, ma non proprio troppo Oh, iniziamo con un Trampill, la nostra sfida Ho Todoroki, che sarebbe Alekidex, femmina oltretutto Ah, potevo chiamarle in un altro modo Vabbè, potevo chiamarla Uraraka, perché comunque sia Mi sto dando i nomi di Mayura Academia, quindi Però è all'undici Ho Sparkowl, che è Utut Cioè, Utut, che è Sparkowl, più che altro Al livello 6 Ho invece Endowar, che sarebbe Trishout al livello 16 Trishout ha due evoluzioni, ma non con il livello Non si prendono con il livello le evoluzioni di Trishout Piuttosto ci sono delle pietre apposta per lui per farle evolvere Strumenti che vengono tenuti per farle evolvere Non so come funziona ancora, perché non ho avuto modo ancora di trovarle Tanto che sono all'inizio del gioco Però so per certo che in questa parte dovrebbe esserci uno sciarpito In teoria Ci sono degli stori Ma non è possibile scontrarci Abbiamo quello che è ovviamente il signor Marino E poi dopo lì Ma questi sono Sheldon? E poi credo che questo sia il posto dove andare avanti con la storia Parliamo un po' Ma è un Pelipper quello Cosa Ed ti ha chiesto di andare sull'isola Bonita? Ma ti accompagno ragazzi Da tantissime anni che qualcuno non mi fa compagnia Insomma andiamo Forza Pelipper Andiamo Quindi devo parlare con il signor Marino Prima di andare con quelli là Ok eccoci qui Vieni da me quando vuoi ripartire È il signor Marino Grande Alla grande Da paura il signor Marino Wow Che postino Cioè che posticino Non che postino Sarebbe sbagliato dire postino Oh Giallo MTMN MT18 Pioggia Danza Mi serve tantissimo Pioggia Danza Grazie Weedle Per aver messo Pioggia Danza Oh Timbura è resistente Benvenuto all'isola Bonita Grazie Questa è una mappa dell'isola Bonita? No Non dovrebbe esserci scritto nulla Ma c'è scritto qualcosa Io parlo Cerco di parlare con tutti Perché Cosa? Spiaggia italiana? Molte persone sono addirittura Convinte che quest'isola Non esiste Proprio come una regione italiana I giochi sul Molise Sono finiti nel 2009 Ok Che dovevo fare Su quest'isola? Qui c'è qualcosa di importante Credo perché c'era una specie di Tu devi essere l'Andersonore Ezio mi ha mandato qui Per mettere appunto Uno strumento per migliorare L'utilizzo delle Xenobol E dopo tanto tempo Tanti studi sono finalmente Riusciti a migliorarle Prendi questo pacchetto E portalo ad Ezio Prototipo Xenobol Ok Ok Adesso sarò entusiasta Bene Qui dentro c'è qualcosa? Revitalizzante Chi è che butta Revitalizzante? Ragazzi Questi costano 1500 Poche euro Poche dollari Poche lire Chiamateli come poche volete Quando bacio il mio ragazzo Penso a Pixel 40 Ma non dirglielo Mo' dove ho richiesto Pixel 40? Vediamo 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 Ok Sì È un ragazzino È un ragazzino Beato lui che è ancora un ragazzino Cazzarola Beato lui sì Ma sono allenatori questi? No però è un Magikarp Penso che se lo stia per mangiare Ragazzi Nel mondo Pokemon Si mangiano I Pokemon Ok Questa Diciamo che non è una cosa Molto Conosciuta È più che altro Una specie di creepypasta La verità è che Nel mondo Pokemon Si mangiano appunto Pokemon Vi spiego subito come funziona Pokemon Nel loro mondo Mangiano carne E anche vermi Infatti c'è una scena Nell'anima In cui Pidgey sta mangiando Becc Spearow? No Pidgey Mi sembra sia Pidgey Becca un vermicello dal terreno E se lo mangia È un vermicello Ci può stare Però esistono anche Pokemon Bruco E i Pokemon Bruco Nella descrizione del Pokédex Specialmente Caterpie Mi sembra Dice che è continuamente Sotto attacco Da parte dei Pidgey Quindi I Pokemon Mangiano altri Pokemon E gli esseri umani Mangiano Pokemon Tipo Tauros Magikarp Golden Sharpedo Insomma tutti quanti Pokemon pesce E Pokemon Di carne Insomma che possono fornire Carne Tipo Tauros Se li mangiano Può sembrare una cosa Macabra Ma noi facciamo lo stesso Con gli animali Che abbiamo nel nostro mondo Il mondo reale Quindi perché In Pokemon Dovrebbe essere una cosa Tanto macabra Il fatto che Ci siano allevamenti Di Pokemon Destinati al macello Io la trovo Io la trovo Una cosa Normalissima Come Miltank Fa il latte E le mucche Nostre Fanno il latte Si può bere Il latte Di Miltank Per loro Il latte È quello di Miltank Quindi Non capisco Cosa ci sia Di tanto Sbagliato Nel mangiarsi Ogni tanto Un Tauros O un Pokemon Da allevamento Però mi sorge La domanda Ora Come facevano Nel passato Quando ancora Non c'erano Le uova A A mangiare Carne di Pokemon Tipo Tipo Tauros E Pokemon Pesci vari C'è Voglio dire Dovevano Per forza Conoscere Le uova Altrimenti Come si riproducevano Pokemon Che poi Tutti i Pokemon Sono Vivipari No Ovipari Ovipari Non vivipari Ovipari Ovivo Vivipari Cioè il Pokemon Dentro la D'uovo È vivo O nasce Cioè Si deve sviluppare Tipo un bambino Dentro la pancia Che quando il bambino C'è dentro la pancia È Già vivo Insomma Sto facendo un discorso Alla Piero Angela Meglio che mi fermi Se no Non so neanche Dove andare a parare O cosa Andrea Impossibile Il signor Marino È decenuto Tantissimi anni fa Smettila di prendermi in giro Oh Il signor Marino È morto Va bene Ok Insomma È È morto il signor Marino Va bene Andrea 12enne Calmati Non è successo nulla Il signor Marino In realtà Non è morto È ancora qui con te Però Ezio deve andare a fare Due chiacchiere Con quel fondotono Del suo assistente Nel frattempo Oh Visto Pico Sei soddisfatto anche tu Abbiamo finalmente Ricambiato al meglio Il favore Che quel ragazzo Ci fece tanto tempo fa Ricordi vero? Quando ti salvò Da quei brutti ceffi Nel bosco Come dici Pico Non era lui Eppure Sono passati tanti anni Ma quello sguardo Non potrei mai dimenticarlo Quella luce negli occhi Quella determinazione Quell'amore verso i Pokémon Ricordami da giovane Sai Pico Anche io avevo Quella stessa luce Quella stessa voglia Di viaggiare E vedere ogni cosa Solo che a differenza sua Qualcosa è Arrivato nella mia vita Qualcosa che mi ha cambiato Profondamente Qualcosa che mi ha impedito Di realizzare I miei vecchi sogni Mi sono innamorato Pico Mi sono innamorato Del vento Della salsedine Del sapore salino Che ti resta sulla pelle Dopo un suo bacio Mi sono innamorato Del mare Pico Fissavo per ore La sua vastità E mi perdevo Nei suoi spumeggianti E fragorosi discorsi Il mare mi è entrato Dentro Pico Ed io Come uno stupido Me ne sono innamorato Tanto da dimenticare Che anch'io Volevo intraprendere Un viaggio Poi ho incontrato te Un piccolo Wingull Sulla spiaggia Riserta Da solo Che contemplava Silenzioso Quello stesso mare Ti ho visto E ho riconosciuto Nei tuoi occhi La stessa dolce Malinconia Che c'era nei miei Ho trovato in te Quella passione E quell'energia Che solo il mare Riusciva a trasmettermi Ti ho visto E mi sono tornati in mente Quelle fantasie Da bambino Sugli allenatori Sulla lega Avrei potuto essere Anch'io uno di loro Io Con un piccolo Wingull Sulla cresta di Owen Poi è successo Ti sei avvicinato a me E subito Siamo diventati amici Si è trattato Di un legame Rapido e spontaneo Senza l'ausilio Di pokeball Ricordi Le infinite rotte Che percorrevamo Senza una meta? Ricordi Le avventure Con il banco Di Wailmer Che buffi pokemon Ogni volta Che penso Allora Mi scappa Una risatina E ora Pico Tu sei diventato Un peliperadulto E io ho un povero vecchio Che vive nei suoi ricordi Un povero vecchio Che si mescola Con le onde Sono diventato La salsaggine Che ho tanto amato Pico Dai basta pensare Alle cose tristi Abbiamo Degli allenatori Da sfidare Dei luoghi Da raggiungere Da visitare Il signor marino Non morirà Fino a che resterà La sua memoria Viva Nei nostri cuori Tutti i viaggi Che abbiamo intrapreso Con lui A bordo Della sua barchetta E' stato un bel viaggetto Con lui Insomma Ci siamo divertiti Abbiamo riso Tante volte Scherzato Ci siamo Messi a ridere Quando abbiamo visto Che rincorreva Pico Per tutta quanta La stanza E quindi Andiamo avanti E non pensiamo Al fatto Che sia morto Cosa ho catturato Io Era un pokemon Gatto giallo Spettro suono Finora sono state Osservate Quattro diverse Specie di brand Che si muovono In gruppi Formati Da esemplari Tutti diversi Oricorio Ma è un gatto O è un pokemon Spettro Suono Boh non lo so Vediamo un po' Un attimo Una cosa Uraraka Ok Eduard Stiamo per salpare Vuoi salire sulla nave Per forza Ok salipori Partiamo fra 5 minuti Io voglio partire ora Sant'Elpidio A mare Io abito vicino Sant'Elpidio Ma la mia stanza Qual è la mia stanza Io voglio sapere Le cose Della vita La porta La porta sembra Chiusa a chiave Ah questa è la mia stanza Perché si può aprire Vuoi riposarti Ma che ci faccio Con Censi Lì Cioè voi pensate Veramente che io In questo gioco Catturo già più di 6 pokemon Ma voi cosa avete Nella testa Ma come vi permettete Di prendermi Oh mio dio Salve No No Io ho imparato tante cose Se apro la cassola Mi attacca Sono un venditore ambulante Vuoi comprare qualcosa Le dà il benvenuto Come posso esserle utile Apriamo un po' sta cosa Tieni a freno le mani Puoi rubarti La farò pagare cara Ecco vedi Questa qui è la stessa cosa Che succede In pokemon Mystery dungeon Se tu apri Provi a rubare la merce Andatene Ti insegui all'infinito Fino alla Non mi ricordo Fino alla prossima scala O ti segui per sempre Non ricordo di preciso Però La lotte è cesa Yeah È morso È arrivato Mo È gula È un bel post Forte sto morso Ragazzo Stai calmino Mio dio Però attacco rapido io E quindi Posso attaccarti Torno dopo E farti fuori Senza Problemi Lo sai questo caro Ah cara Scusami Tutte le femmine Sono in questo gioco Che roba succede Sta per usare Mandare in campo Kecleon Oh ragazzi Kecleon Uraraka Sei elettrosuono Che mosse hai Tonoshak Rugito botta Io vorrei allenare Tutto veramente Però Mando endewar Devo Non è che devo Allenarlo a tutti i costi Però Solo con lui posso farcela Perché sono Quattro e mezzo Sì Sta a quattro e mezzo Di danni Quattro e mezzo Oh ce l'ho fatta A fare il conto preciso Era matematica Ragazzi C'avevo due C'avevo Fare spazio per comete Certo Lo so che non dovrebbe essere Una cosa di cui vantarsi Di avere due in matematica Ma infatti Non me ne sto vantando Vi faccio capire Quanto io sia scarso In matematica Sei in gamba Quindi ora mi dai Quello che c'è lì dentro Ti chiedo scusa In fondo stai solo Dando un'occhiata Ma non riprovarci Ti prego Raccettare questo piccolo regalo Come scusa Ora io faccio una cosa Faccio ragazzi Mi vado a curare Che provo a ritornare lì Self chance Non mi serve Grazie Perché 500 Devo spendere E poi Figurati Mica so scemo Ci provo a ritornare Sì Però salvo Prima perché non si sa mai Magari capace Vuole fare un'altra lotta Beh sarebbe un buon allenamento A dire il vero Ah forse è meglio Non aprirla Me lo dice il gioco Ok Vediamo un po' le altre stanze Ma è grande ragazzi È grandino Giusto è chiuso a chiave Questa no Ma quella era Gary Ok mi sembrava Che cosa Ma è una moto Mi scusi Ah si è una moto Scommetto che ti sterei chiedendo Come ho fatto ad imbarcarmi Con la mia moto Non lo so nemmeno io Wow La vita è bella Basta tutta la giornata Completa Così non mi annoio Sulla nave Io quando lo combatto Contra tutti Non mi tiro mai indietro Sparkle Vai Todoroki Cos'è quelle cose dietro Se non me la faccio Di un Pokémon gigante Manda Pikachu Allora cambio Vai And va Così recupera La lotta di prima Che prima Non ha preso nessun punto Recupera almeno quella Dai Vocalizzo Fallo Fallo con un tacco solo Vocalizzo Dai Contro il tuono Non è molto Il tuono Elettrico Il tuono Contro il tipo Elettrico Non è molto efficace Il tipo suono Ok Tu sei sconfitto Quindi Tu amichetto Ma c'è un solo Non c'è neanche un letto Qui A mal di mare Grazie per Avermi fatto Conoscere Questa tua Debolezza Al mare Andiamo un po' Con attacco rapido Grande Grande Todoroki Però sta salendo Un po' troppo Velocemente di livello Vorrei far salire Anche gli altri Tipo Sparkle Sparkle Vorrei portarlo Ad un livello Leggermente più alto E farlo evolvere Perché ho visto Che evolvendo Si diventa Una cosa pazzesca E poi Continuo a far lottare Il mio amatissimo Andewar Comunque sia Contro gli altri Mando in campo Sparkle E poi mando Andewar Per prendere I brutti colpi E anche Cestino Più di carta stracciata Niente allora O poi Cavolo Con la transazione Wow E tu chi saresti Oh Quindi tu sei Andrea Non credevo fossi così giovane Banda le ciance Vedo che anche tu Stai andando dal capitano Potresti dargli quello Digli che da parte Di Esteban Pozione segreta Me la tengo io È stato un piacere Conoscerti Sono sicuro Che ci rincontreremo Non so come faccia Sapere il mio nome Però Adesso Se quella è la strada Per andare dal capitano Cambio strada C'è questo C'è mal di mare Tutti con mal di mare Stanno In allegria Wow Grande sta nave E beh Giustamente Non poteva mancare Il reparto cucina Il risotto allo scoglio È fantastico Sì Sì Il risotto allo scoglio È fantastico Allo scoglios Perché c'è una S Fina Geno Jeff Ah Ah Ho capito Ho capito i nomi Geno Jeff Ok Ho capito Aspetta Spero che si siano sbagliati A meno che Non è una citazione A scotex A Marie John Giangela Il cestino è vuoto Ma vicino al cestino C'è qualcosa Bacca prugna Oh ragazzi Vi adoro Bacca prugna Grandissima citazione A rosso E blu e verde E giallo Insomma La prima gen Bravi ragazzi Quando mi piace Quando fanno le citazioni Mi piace Quanto mi piace Capitain Capitain Oh mio capitain Forse farei meglio A non guardare No invece no Maledetto Cuoco incompetente Quello sotto faceva Veramente schifo Oh che spavento Ander Proprio te cercavo Devo dirti una cosa Di vitale importanza Capitano capitano Che succede Mario raglio Perché tutta questa agitazione Abbiamo subito Alcuni attacchi Da parte di un branco Di sciarpito Abbiamo riscontrato Ingenti danni a motore Ma non sappiamo ancora Per quanto la nave Poss Ander Stai attento La Santa Erpidio Subire danni Molto gravi Che la portarono A schiantarsi Contro un muro roccioso Nonostante tutto Però Una forza misteriosa Trasse in salvo Andrea Che si troverà Presto da solo Sull'isola deserta Del resto Dell'equipaggio Nessuno ha più notizie La colpa è di Esteban Lo so Ok pozione Forse anche questa È una citazione Ma La posso cogliere Solo se hanno messo Un particolare importante Altrimenti Non potrò coglierla Queste cosa sono Foglie Ah si ok Se è una citazione Devo aver messo Un particolare importante Se no Non posso esserne sicuro Perché di citazione Ce ne sono tantissimo A letto Ok Questo è niente Aspetta Ma quella è una porta Del tempio Gastro di livello 9 Beh Sarebbe interessante Un gastro di livello 9 Quanto vorrei avere La nostra tuono Ora lo Lo shoterei Non posso scappare Allora A parte che ha fatto Leccate Quindi dovrebbe Leccare E non graffiare Ma Cosa è a parte Io non ci posso andare Potrei scappare Potrei scappare con Quella A quanto pare Ma prima Prima Nave Nave Sono No 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 Aspetta 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 Devo andargli A curare Assolutamente Non possono stare Così Oh si trovano Anche qui Pokemon Zubat Cosa voglio trovare Ok qua ha salito tutto Ha salito anche Endeavor Fammelo ricaricare poverino Se no schietta malissimo Perfetto Ora posso affrontare i pokemon Un pochino più serenamente Questa è l'ultima stanza Si Mi sento una strana presenza dentro quella stanza Questi sono probabilmente Gli Sherpido che hanno attaccato la nave Sherpido X si avvicina E' visibilmente infastidito dalla tua vista Sherpido X attacca Artwork stupendo Dovrei dire X Sherpido X Si Dovrei dire X Fatti sotto il boss Sherpido X vuole lottare Anche questo è forte Però E' una leva Tutti quanti femmina sono in pokemon che incontro io Pisto l'acqua Ti prego non mi one shotare Ecco almeno questo Almeno questo Almeno questo Contro la raga non è molto forte l'acqua Ma Tono shock penso di si Spettro acqua per forza Non può essere altrimenti Esatto E va K Ok 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 Uraraka è esausto Eh dove forza sa un altro pokemon Todoroki Mando te Cerca di resistere per favore Non mi deludere Solo bracere posso fargli Quindi neanche tanto forte Eh poca roba poca roba Ah qui finisce male ragazzi Finisce male Eila 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 Hai anche ira Ci provo Ci provo Non posso fare altro Grande 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 Meno male Ok spettro acqua bel tipo Pokemon proveniente dal mondo Xenoverse Si dice che affondi le navi di proposito Per crearci la propria dana Ma sarai cattivo Soprannome Certo che glielo do Poi anche femmina Quindi sui è preciso Senza sharpie 2x Gli altri sharpie 2 si deleguano sott'acqua Grande No anche qui pokemon Dai Uh esteban Cosa E andrà Ma cosa ci fai qui Andrà a spiegare cos'è successo Oh ecco perché c'era quella Prossa all'entrata Quindi sei riuscito a sconfiggere Quell'esemplare Di sharpie 2x Guarda tu che coincidenza Ero avvenuto proprio per lo stesso motivo Alcune leggende narrano che questi pokemon Avano attaccare le navi Per poi farci il loro copo Beh scommetto Agora ti starei chiedendo Come faccio ad essere qui Visto che anche io ero sulla nave Grazie al mio filato amico Alla Kazam Sono riuscito a teletrasportarmi Giusto in tempo E a salvare tutto l'equipaggio Senza nessuna vittima Bravo bravo Ma ora basta parlare Forza la Kazam Portaci via di qui Kazam Montepico Eccoci siamo arrivati Ottimo lavoro la Kazam Adesso ritorno Per prima cosa Fammi curare i tuoi pokemon Saranno sicuramente stanchi Dopo la lotta contro quello sharpie 2x Puoi giurarci Puoi giurarci Bene Andrea Come puoi vedere Questa è la mia piccola dimora In questo momento Ci troviamo in cima a Montepico Ho costruito qui la mia casa Per poter condurre i miei studi in serenità Immagino che teletrasporto del mio Nakazam Ti abbia scombussolato un pochino Resta pure qui tutto il tempo che vuoi Fai come se fossi a casa tua Adesso però scusami delle faccende da sbrigare Ci vediamo in giro Andrea Oh Andrea Oh Andrea vieni qui un attimo Sembra che di bolletto abbiano rapito il Mime Junior di questo bambino Io purtroppo ora ho da fare Potresti occupartene tu? Grazie Andrea Sono sicuro che saprei cavartela egregiamente Dimmi bel bambino Cosa ti è successo? Ehi tu devi essere Andrea Per favore devo aiutarmi Stavo giocando con il mio Mime Junior Vicino alla grotta Ghiacciolo Ma lì proprio sotto i brutti cefi Si sono venuti e l'hanno portato via con la forza Ti prego di trovare il mio Mime Junior Ti avrò una cosa speciale se ci riesci Sì però nel prossimo episodio Cugge come sempre Vi ringrazio per aver seguito anche questo video Che spero vi sia piaciuto In descrizione come sempre trovate il link per Twitter Ed io ora direi che Ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye Ciao 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 Ciao